Ancora una tegola in casa Catania, ancora una cattiva notizia sul fronte infortunati, protagonista questa volta suo malgrado Norbert Jomber, il copione sempre lo stesso, quasi a ricordare un film già visto in un momento già difficile da gestire. Per lo slovacco si tratta di un severo trauma distorsivo della caviglia destra con compromissione legamentosa, una condizione che richiederà un intervento chirurgico già in programma per martedì 11 novembre, che sarà eseguito dall'equip del professor Santucci presso la clinica Villa Stewart. Tutto da riorganizzare dunque, tutto da rivedere, ma nessun problema per Sannino che questa mattina nel corso della consueta conferenza pregare è parso carico più che mai, arrabbiato quanto basta per trasmettere ai suoi quella carica agonistica necessaria ad affrontare un avversario, il Varese, che nel tecnico rievoca tanti ricordi. Tre anni fantastici li ha definiti e c'è da scommettere che contro i biancorossi le motivazioni domani saranno per questo doppie. La lista dei convocati nonostante tutto, nonostante i tanti, troppi infortuni lascia ben sperare. Ci sono Spolli, c'è Rosina, c'è Martigno. Giocheranno tutti e tre a messo Sannino in conferenza stampa e se non è pretattica per i tifosi rossazzurri è certamente un'ottima notizia. C'è anche Almiron tra i convocati e sarà magari possibile vederlo a partita in corso. Per la sfida di domani Sannino potrebbe riconfermare il 4-4-2 ma solo nelle prossime ore il tecnico scioglierà i nodi relativi agli interpreti e alle loro posizioni in campo. Potrebbe essere Sauro a ricoprire in difese il ruolo di terzino destro con Monzona a sinistra e Spolli e Capuano coppia di centrali, con quest'ultimo però che potrebbe agire a destra. In quel caso sarebbe Sauro a far coppia con Spolli. Nel folto centrocampo accanto a Rinaudo e insieme a Martigno aggiranno con buona probabilità Jankovic ed Escalante. In avanti tandem Rosina Calaiò, fischio d'inizio domani alle 15, arbitrerà il signor Riccardo Ross della sezione AIA di Pordenone.